Ben ritrovati, ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video. Allora, dopo le pagelle relative al reparto difensivo, adesso analizziamo quelli che sono i singoli giocatori della mediana della Juventus. Un reparto che, come ho già detto, come penso sia abbastanza palese, è quello che necessita nel futuro una rivoluzione, perché serve mettere qualità in un centrocampo veramente molto misero. Però pensiamo a quelli che abbiamo oggi, quelli che hanno fatto in questa stagione, andiamo ad analizzare quelle che sono le mie personali valutazioni giocatore per giocatore. Rabiot, voto 5. Per il francese è stata un'annata decisamente altalenante, con buone prestazioni e con alcune prestazioni decisamente deludenti. Ho rivisto un po' quei fantasmi del Rabiot della prima versione, quello che dicevo giocava in ciabatte ed era addirittura, addirittura irritante per come appunto sembrava indisponente in campo. Da lui mi aspettavo di certo molto meglio, anche perché negli ultimi due anni, quindi non questo, ma insomma nei due anni precedenti, ha fatto vedere che con la palla ai piedi sa il fatto suo. Adesso abbiamo un lagrana rinnovo, però insomma onestamente se deve rimanere il Rabiot che ho visto quest'anno, sinceramente può anche andar via. Se eventualmente vuole riprendere quel discorso interrotto l'anno scorso, quindi non quest'anno, ma l'anno scorso, secondo me è un valore aggiunto. McKennie voto 6,5. È stata un po' l'annata della sua rivincita morale, perché sappiamo bene a inizio stagione, quando è rientrato dal prestito da Leeds, non era assolutamente nei piani della Juve, tant'è che il padre, se non ricordo male, in maniera ironica, disse che gli era stato anche levato l'armadietto. E la Juve sappiamo che a inizio anno aveva intenzione di dare le chiavi del centrocampo principalmente a Pogba e Fagioli. Salvo poi, in emergenza, reintegrare quello che era, insomma, la figura del texano. Ha disputato decisamente un'ottima annata, una delle poche figure positive in questa era parte, alcune volte ha dovuto anche giocare per forza di cose, perché non c'erano alternative e aveva anche una spalla lussata. Miretti, voto 5. Con lui, mi ripeto, da sempre, non sapremo mai se è davvero all'altezza della Juve, se non farà, secondo me, un'esperienza altrove, così come l'hanno fatto in passato altri suoi colleghi, come Barinocea, come Sule, come Fagioli, insomma, in passato. Gli si chiede di essere un regista insieme a Locatelli e non lo è, o perlomeno non sembra esserlo, e inevitabilmente sforna quelle che sono prestazioni non all'altezza, nella maggior parte dei volti in cui viene impiegato. Grosso modo è lo stesso giudizio che ho espresso l'anno scorso per il giocatore, disse che appunto serviva un'esperienza altrove, e lo ribadisco ancora, serve un'esperienza altrove. Fagioli, senza voto, si puntava tanto, come appunto detto poco fa, su di lui, come prima alternativa a Pogba e poi quello che avrebbe dovuto in qualche modo andare a raccoglierne il testimone in futuro. Ha sbagliato e lo sa, e se la Juve lo ha aspettato è quindi un segno che il ragazzo crede, e non poco, visto che gli ha pagato anche lo stipendio come se fosse appunto successo nulla. Sono certo che il prossimo anno sarà l'anno della sua rinascita definitiva, e gli europei che andrà a disputare quest'anno sono anche un sintomo di rinascita anche morale. Locatelli voto 4, lo considero un giocatore non da Juve, lo dico da sempre, uno tra quelli che può essere tranquillamente sacrificato. Passaggi sbagliati, appoggi semplici, cannati, verticalizzazioni quasi zero, e lentezza con la palla nei piedi. Insomma, il quadro perfetto per uno che va mandato assolutamente via il primo possibile. L'unica cosa degna di nota è stato quel gol rifilato alla sua squadra al Milan, che poi però fu un tiro dalla lunga distanza deviato, però insomma comunque è sempre un gol, e va apprezzato per quello che è. Ad onore del vero c'è da dire che comunque pare sia più congeniale una sua collocazione come mezzala e non come centrale, ma comunque sì, a alcuni errori c'entrava poco la posizione in campo, piuttosto la testa e le gambe. Nicolussi Caviglia senza voto. Ha giocato poco, Allegri in una delle sue ultime interviste, prima dell'esonero in occasione della finale di Coppa Italia, si è detto che probabilmente avrebbe dovuto sfruttarlo di più, cosa che non ha fatto, e aveva ragione. Anche perché l'alternativa in campo si chiamava Locatelli, che ho già detto, insomma, precedentemente. Probabilmente avrà più spazio in futuro, a meno che non rientri in qualche scambio, o eventualmente in qualche prestito. È un ragazzo che ha talento, lo si sa, però appunto deve ancora sbocciare. UEA 5,5 Onestamente non ho ancora bene inquadrato il giocatore, è il solo e unico acquisto del calciomercato estivo dello scorso anno e si riponevano in lui, ovviamente, tante buone speranze. Per il momento non corrisposte, perché a mio avviso è ancora un po' troppo agerbo, però ha buona fisicità, un'ottima corsa e abilità al cross. Pecca un po' ancora in fase difensiva, ma secondo me le basi ci sono. Pogba senza voto Se possibile gli darei anche zero più che un senza voto per come è stata fallimentare in questa sua seconda esperienza bianconera, per quanti soldi abbiamo buttato e per come ha deciso di buttare nel cesso questa sua seconda avventura. Lo scorso anno, con delle scelte scellerate per quanto riguarda quello che è il suo recupero fisico e quest'anno per quanto riguarda la vicenda doping. Giocatore decisamente finito Alcaraz, voto 5 e mezzo Ha giocato poco e complice anche un infortunio, anche di meno di quello che avrebbe potuto. Arrivato non per volere di Allegri, visto che si parlava di una richiesta dell'allenatore di Pereira o di Bonaventura però se comunque si è ritagliato un piccolo spazio e qualcosa di buono ha fatto vedere. Ma non di certo da far valere il suo cartellino a 50 milioni che erano quelli poi patuiti a gennaio con il Southampton. Se riesce Giuntoli a rinnovare il prestito, penso possa far bene, altrimenti grazie e buona fortuna. Carlos Kostic voto 5 Un'annata molto al di sotto delle sue potenzialità Lo scorso anno fece 12 assist e circa 3 gol Quest'anno invece si ferma a 4 assist e 0 gol all'attivo Onestamente sono molto ma molto deluso dal serbo perché sappiamo benissimo che può fare meglio ma quest'anno appunto non l'ha fatto C'è da capire quali sono state le motivazioni Prima arrivava al cross almeno in 7 barra 8 volte su 10 ora è già tanto se ne riesce a fare mezzo purtroppo sacrificabile Allora questi erano i miei personali giudizi in riferimento a quello che è il reparto di centrocampo un reparto che ha purtroppo diverse lacune spesso qualitative che come ho già detto puntava forte su Pogba e Fagioli e poi i piani sono dovuti in qualche modo essere stravolti Detto questo io vi ringrazio, vi saluto vi invito, mi raccomando, a iscrivervi al canale è assolutamente importante attivare la campanellina per essere avvisati nel momento in cui vengono postati nuovi video nel momento in cui vengono fatte nuove live in descrizione avete tutti i miei riferimenti social avete il box dei commenti per dirmi la vostra e per dirmi se eventualmente siete d'accordo o meno con quelle che sono state le mie valutazioni Penso aver detto tutto e fino alla fine sempre, solo e nonostante tutto Forza Juve Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti